Ciao a tutti ragazzi sono Emilio Rozza e bentornati sul canale Oggi ragazzi un nuovo video, una specie di guida, anzi senza togliamo specie Una guida o un consiglio che vi do sul collezionismo di figurine E appunto come sapete è uscito il setting di aggiornamento dei calciatori panini 2021-2022 C'è un aspetto molto pratico che mi ha sempre incuriosito un pochettino, vi dico la mia Allora, ossia quello delle figurine trasferimento E questo aspetto qui è abbastanza particolare perché c'è una domanda che assilla spesso molti Dice ma lo attacco o non lo attacco a fugire figurina di trasferimento? Potrebbe essere qualcosa di dannoso? Non lo so questo Però io ho una mia idea e adesso ve ne parlo dopo la sigla Allora ragazzi qua mi ricollego appunto sul video e parliamo appunto del trasferimento Allora questo qua è la nostra team Prendiamo appunto trasferito quindi la figu Con gli sticker del trasferito Vediamo un pochettino che cosa fare Allora la questione è ragazzi come la attacchiamo Come attacchiamo la figurina Do e se conviene attaccarla Allora io sono dell'idea di questo Fondamentalmente tipo io vedo l'album Come comunque una specie di database Uno poi se lo può sfogliare a seconda E rivedere quello che vi porta dal punto di vista storico Quello che è successo fondamentalmente Nel corso degli anni Io magari tra qualche anno voglio riaprire l'album Di 2020-2021 Vedo che cosa era successo Quindi portare il trasferimento del giocatore Ovviamente ragazzi lo spazio per attaccare il trasferimento non c'è Però fondamentalmente tipo si potrebbe Scegliere di attaccare E attaccarlo sulle figurine Adesso andiamo a vedere come chiaramente E io vi consiglio appunto di attaccarlo Almeno io la vedo così Perché mi ricorda le cose che sono successe appunto In quella stagione E quindi ci sta da quel punto di vista Ovviamente ragazzi prendiamo la nostra checklist E andiamo a fare un esempio per vedere anche come attaccarlo Che qui faccio un video guida Allora fondamentalmente c'è Prendiamo subito l'Atalanta Dove ci sono quelli che sono arrivati Jeremy Bogami, Ayla e Atebor Che vabbè era figu nuova Perché Atebor mi sembra che Esatto non era stato fatto Come vedete qua Il povero Atebor Adesso vi sposto leggermente la cam Così ve lo inquadro Il povero Atebor non aveva la sua figurina Tra l'altro vi avevo detto che è molto strano La cosa di Atebor senza figurina Mentre sono stati trasferiti Gosens Lovato e Piccoli Quindi andiamo magari a vedere un attimo Quelle che ho già attacchiato Tra Gosens, Lovato e Piccoli Che è Roberto Piccoli Quindi questo qua Che ovviamente è andato È andato via figurina Appunto numero 30 Come qua ci dice Bene Ovviamente 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30 Prendiamo Ora L'applicazione è molto semplice Nel senso che dovrebbe essere Molto simile a quella lì Quindi c'è questo bella Bola trasferito Io direi che Queste figu che presentano bene Allora Non mi piace molto Che Tra virgolette Scusate che non si vede bene L'inquadratura Magari Allora a questo punto Per comodità di ripresa Andiamo su Robin Gosens Figurina Appunto Numero 14 Eccolo qua Che è andato all'Inter Allora O lo attaccate di qua Però non c'è spazio Fondamentalmente Non è bello Anche perché di qua Non abbiamo più spazio Quindi direi Proprio di mettercelo Bellamente O lo mettiamo Sotto qua Al giocatore O l'effetto Magari di metterlo così In modo tale Che comunque si vede Tutto Io lo metterei Tipo così In diagonale Anche perché Sembra molto simpatico Poi vabbè Chiude Atalanta Ma di fatto ragazzi Secondo me L'importante è che si veda Il giocatore Ed eventualmente La La faccia Quindi Piazzare qua Così Così Non copre Troppo L'effetto Dovrebbe essere Più che buono Magari più sul giocatore Che non sull'immagine Tipo così Trasferito In modo tale Che comunque Dai Tiene diagonale Senza andare Troppo Sul dettaglio Lascia abbastanza libera Anche l'immagine E secondo me Su questa grafica Di figurine Può andare più che bene Che non è male Effettivamente Per cui Ragazzi Da questo punto di vista Ci sta Ovviamente Poi verrà ripeschiato Il Gosens Quello ufficiale Adesso vado a vedere Se lo ritrovo Qua in mezzo Nelle figu E E poi Appunto Lo viene E poi viene Incollato Nella sua Nuova Sede Vedete C'è la figu Di Attebor Però non trovo Quelli di Gosens Che se Eccolo qua Vedete Robin Gosens Qua Piazzato Con la sua foto Nuova all'Inter Che poi andremo A mettere Appunto Nel suo Posto M18 Per cui Ragazzi Questo era un breve video Che vi faccio vedere Un pochino Vi ho fatto vedere Un pochettino Come Penso di sistemare La cosa del trasferito Anche perché è bello Perché poi dopo Vedremo Come si evolve La collezione Cioè Nel corso Perché tu vedi C'era Gosens All'Atalanta Poi è stato trasferito Secondo me A livello collezionistico Ci sta di più Che non lasciare L'album In tonso Così Perché Io credo che Le figurine Debbano Essere Toccate Con mano So Io Sono Dell'idea Che vadano Incollate Non tenute Staccate Poi Però Ne parlerò Bene Nel video Guida Il consiglio Dele figupanini Per cui Ragazzi Diciamo Che per questo Video è tutto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi al canale Fatemi sapere Soprattutto voi Che cosa farete E noi Ci vediamo In un prossimo Video Ciao 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 Grazie.